Il famigerato. Chi è l'occultista? Commento. Il famigerato occultista, quando è vero occultista, è un individuo che ha fede nei fenomeni interiori, inaccessibili alla scienza, cioè alla mente. E chi sente la coesistenza e l'interdipendenza tra i fenomeni fisici, psichici e spirituali e si avvicina al tessuto multiforme della realtà.